amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati la mistificazione e la propaganda stanno regnando sovrane ma era inevitabile e scontato anche in questo conflitto tra israele e palestina e l'esempio più proprio più eclatante è la falsa strage di 40 bambini israeliani che sarebbero stati decapitate le truppe di amass che è servita invece per esaltare l'emotività dell'opinione pubblica creando i famigerati schieramenti contrapposti analizziamo la situazione e questa escalation assieme a paolo borgognone ciao paolo storico scrittore ciao paolo ciao carlo grazie per l'invito un saluto a tutti quelli che seguono la trasmissione e benvenuto per la prima volta al vaso di pandora diego siragusa esperto di questioni israelo palestinese scrittore e saggista benvenuto saluto a tutti allora paolo un attimo prima di iniziare il nostro appuntamento mi ricordava che questa è la sessantesima intervista sono a guarda commossa e tenuto addirittura il conteggio paolo la collaborazione che va avanti dal 2019 esatto sì questa è la sessantesima puntata che facciamo insieme sono contento di essere arrivato a questo traguardo e dal 2019 che collaboriamo con reciproco profitto sicuramente da parte mia è stata ed è una importantissima esperienza è anche una grande soddisfazione a livello a livello personale a livello culturale e guarda posso dire esattamente le stesse parole e aggiungiamo anche il grande apprezzamento che hai presso presso tutti gli ascoltatori entriamo nella nel vivo della della questione io avrei subito una domanda ma credo che sia ovvia e spontanea per i nostri ospiti volevo sentire prima di tutto il parere di diego siragusa ma senta com'è possibile che la striscia di gaza che è la prigione più controllata della terra abbia potuto effettuare un attacco del genere in territorio israeliano qui c'è qualcosa che non torna evidentemente ecco questa è un'osservazione che in parecchia abbiamo fatto c'è una intervista una soldatessa israeliana che aveva servito nel valico di erez quello che porta verso israele dall'altra parte c'è il valico di rafa che porta in egitto e questa era rimasta piuttosto sorpresa dal fatto che per esperienza sapeva benissimo che la tecnologia impiegata per il controllo radicale capillare dei palestinesi di gaza non consentiva una versione dei fatti come quella che abbiamo conosciuto quello che abbiamo conosciuto sembra sembra che qualcuno intenzionalmente abbia voluto disattivare i sensori che percorrono tutta la recensione in muri che circondano gaza abbia voluto lasciare quasi la porta semi aperta per dire potete uscire quindi sono passati non solo gruppi di militanti è arrivato anche un vecchio bulldozer che ha buttato giù la recensione la recensione sono arrivati dei combattenti addirittura col parapendio e questo senza senza che i sensori avessero dato l'allarme da questo punto di vista quindi hamas si è trovato con la porta aperta ha catturato i soldati che erano in alcune guarnigioni ha assaltato alcuni palazzi governativi posti di polizia e poi soprattutto si è rivolto nel nei kibbutz dove ci sono i famosi coloni che sono la feccia del mondo ebraico e più violenti più malvagi quelli che sparano uccidono tra l'altro con la protezione dei soldati e hanno avviato per la prima volta nella storia della palestina questa operazione militare che era stata preceduta da una raffica di centinaia e centinaia di missili verso askelons derot alcuni insedialmente addirittura alcuni missili sono arrivati fino a tel aviv la domanda che ci poniamo com'è stato possibile questo qualcuno evidentemente come successo con l'undici settembre ha voluto che questo accadesse per giustificare un'ondata di simpatia nei confronti di israele come accadde l'undici settembre 2001 con i giornali che titolavano siamo tutti americani adesso siamo tutti israeliani e naturalmente per creare questo clima di simpatia direi viscerale nei confronti degli israeliani e facendo tavola rasa di tutte le loro azioni criminali nell'arco di 78 anni cosa bisognava fare bisognava applicare la tecnica della mostrificazione dell'avversario come fecero nel 2003 quando invasero l'irac di saddam hussein allora si diceva che aveva armi di distruzione di massa che da piccolo addirittura con un ferro incandescente sodomizzava i cani tutte cose inventate in modo che il pubblico credulone fosse irregimentato arruolato dall'imperialismo americano perché di questo si tratta la lezione poi alla fine è solo questa è la notizia che ha fatto più scalpore il fatto che un colono tra l'altro della riserva ha incontrato questa signora giornalista israeliana che si chiama nicolze vec e gli ha detto che ci sono stati bambini uccisi da hamas e decapitati se non che non esiste una sola fotografia non esiste una sola prova la notizia oggi lo sappiamo è puramente inventata però il presidente americano Biden continua a rilasciare dichiarazioni dove la dà per certa anche se alla casa bianca poi ha detto il portavoce beh veramente proprio le prove non le abbiamo però intanto questa notizia infame sta procedendo e naturalmente c'è il consenso ai veri massacri perché io poco fa ho ricevuto decine e decine di immagini di bambini di uno due tre anni uccisi e sono tanti si parla già di oltre 300 ebbene di questo nessuno parla di questo nessuno parla questo è il vero è il vero infanticidio ecco siamo ai tempi di erode per ritornare chiarissimo ecco siamo fra virgolette tutti israeliani infatti in italia la bandiera israeliana viene proiettata nella nel buio della della sera e della notte su palazzo chigi paolo paolo borgognone sì come quella ucraina lo scorso anno come quella statunitense dopo l'11 settembre 2001 e poi sempre naturalmente perché siamo tutti americani siamo tutti ucraini siamo tutti israeliani naturalmente a nessuno interessa l'ucraina chi sapeva dove era l'ucraina fino al 2022 ma nessuno eppure vedevamo le bandiere esposte addirittura anche presso luoghi di svago presso luoghi della ristorazione presso tutta una serie di attività che non avevano nessun tipo di collegamento o di cultura storica che andasse a legittimare a giustificare quella quel posizionamento ideologico così radicale e adesso si fa lo stesso con israele ma perché perché noi dobbiamo sempre schierarci ma questo è ormai risaputo come ha detto giustamente prima diego siragusa dalla parte dell'imperialismo americano cioè se l'imperialismo americano ci dice di sventolare la bandiera di uno stato piuttosto che un altro e noi dobbiamo farlo assolutamente non non abbiamo alcun margine di autonomia in più arriva per legittimare le operazioni di invasione che israele sta per approntare sta approntando sta già attuando a gaza e la fake news che è legittima anche dal punto di vista tenta di legittimare vorrebbe legittimare il pretesto no emotivo per l'invasione eccola qua no è quello che di cui abbiamo parlato prima ecco bambini decapitati da hamas israele non conferma non conferma neanche loro mentre lo confermano i nostri giornali che ieri a titoli cubitali in prima pagina in un'onda di sdegno in una sì in una grande onda di sdegno denunciavano questo condannavano questo lo vogliamo mostrare guardate come la mia sottolineatura e quello non la leggiamo è questo il giornale forze israele dici tu lo aumento perché va proprio visto non va solo letto palestinesi come i nazisti per cui eccola la mostrificazione del nemico il nemico è un nazista per cui deve essere trattato senza pietà in quanto ideologicamente non solo a fine ma esattamente uguale a hitler e ai massacratori di auschwitz per cui non deve esserci salvo il fatto che gli americani hanno avuto pietà per i massacratori nazisti alcuni li hanno addirittura ruolati nella cia per cui sai la propaganda antinazista è buona fino a che fa comodo a chi la utilizza però un tale claus barbie il boia di leone massacratore di ebrei dopo il 1945 è stato ruolato nella cia ed è diventato uno degli uomini di riferimento della cia in america latina soprattutto in bolivia per poi essere stradato solo nel 1987 quando ormai era malato e quando ormai la guerra fredda stava almeno quella fase della guerra fredda stava volgendo al termine per cui gli stati uniti non avevano più bisogno dei suoi servigi ma dal 45 all'87 lui ha agito come uomo della cia in bolivia e nell'america latina claus barbie nazista per cui ci sono nazisti che fanno comodo e nazisti che non fanno comodo o nazisti completamente inventati hamas non è un gruppo nazista un gruppo religioso sicuramente uno può non condividere ma ci sono anche tanti movimenti laici in palestina e nazionalisti di sinistra comunisti socialisti non c'è solo hamas però non è nazista hamas eppure viene definito così in ucraina i gruppi nazionalisti radicali ucraini taluni assai contigui al neonazismo sono definiti nazisti buoni fanno tenerezza no e perché perché stanno dalla parte come claus barbie della nato ma nel momento in cui la nato ha bisogno comunque di mostrificare un nemico ecco che arriva la definizione di nazista e sotto quella definizione non passa più nulla e poi finita e lì è quella definizione utilizzata in quel senso di nazista cattivo perché ormai abbiamo anche i nazisti buoni come abbiamo detto nazisti utili utili e nazisti utili appunto come non sono utili coniato il termine con quella definizione lì poi sei autorizzato a utilizzare la forza per fare quello che vuoi e anche per invadere un paese è un paspartout con l'iraq di saddam mussein si disse la stessa cosa no saddam mussein è un nazista che vuole distruggere il mondo alle armi di istruzione di massa se non andiamo a uccidere lui lui ucciderà noi perché nazista e poi le armi di istruzione di massa non le aveva con milosevic nel 2.999 si fece la stessa equazione milosevic uguale hitler e l'espresso uscì con una copertina con il volto di milosevic camuffato da hitler e la dicitura hitlerosevic e poi anche lì non era vero niente però intanto quella propaganda di guerra serviva per convincere l'opinione pubblica che stavamo intraprendendo una guerra giusta una guerra contro un nemico barbarico e adesso si fa lo stesso e le fake news poi sono anche deputate a svolgere questo compito di persuasione dell'opinione pubblica di addomesticamento dell'opinione pubblica vi ricordate quella del 1990 in iraq no i bambini dell'ospedale pediatrico del reparto di nursery no dell'ospedale pediatrico di quiet city che secondo la la propaganda di guerra occidentale sarebbero stati strappati dalle incubatrici neonati dai soldati iracheni e scaraventati sul pavimento no uccisi così non era vero niente non era vero niente però intanto intanto il caso sbelli la 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 l'emotività della della pubblica opinione intanto ma soprattutto quello fu il caso sbelli per convincere l'opinione pubblica a schierarsi dalla parte dell'invasione dell'iraq nel 1991 perché saddam e i suoi orchi strappavano i bambini neonati dalle incubatrici e li uccidevano scaraventandoli contro il muro non era vero era una una fake news una delle prime e più colossali fake news della propaganda di guerra post moderno questa diciamo poco dopo questo a questa paolo diciamo questo diciamo paolo dei 40 bambini decapitati ha funzionato per per poche ore mettiamola mettiamola così diego siragusa volevo sentire è un siamo in una situazione a rischio a forte rischio di escalation israel è avvertito ezbollah che il suo esercito distruggerà damasco e prenderà di mira il presidente assad se ezbollah dovresse unirsi alla guerra so che le navi da guerra statunitensi sosterranno israele in guerra tra l'altro la giordania ha annunciato l'apertura delle sue basi agli aerei americani per fornire sostegno militare a israele siamo a rischio siamo a rischio di escalation ieri in un'intervista non l'ho vista in televisione l'ho vista su youtube perché a televisione io come sanno un po tutti gli ascoltatori il vaso di pandora la televisione non riesco a guardarla ma paolo mieli para dice che non capisce la parola de escalation quindi evidentemente capisce solo la escalation a quanto pare e d'altronde paolo miele è un sionista che controlla il programma rai storia ecco perché noi vediamo che tutto il sistema dell'informazione in italia non solo in italia c'è sempre un sionista che presiede e orienta l'informazione a senso unico ebbene e zbollah ha un esercito di circa 100 mila soldati è rifornito dall'iran in quanto sono usciti come gli iraniani ed addestratissimo ed è quell'esercito che nel 2006 riuscì al sud del libano a dare una forte lezione all'esercito israeliano uccidendo parecchi soldati in quell'occasione morì anche il figlio di 21 anni dello scrittore david grossman tanto per ricordarlo ebbene e zbollah è già entrato in combattimento non ancora in modo massiccio ma un telegramma che ho ricevuto elenca addirittura un radar abbattuto due cannoni abbattuti e anche delle dei mezzi blindati quindi messi fuori combattimento da parte delle truppe di ezbollah tant'è vero che una parte dell'esercito israeliano ormai si è spostato al nord e hanno bombardato già gli israeliani le fattorie di sheba le fattorie di sheba che sono contestate in quanto sono in territorio libanese però le hanno rubate come sanno fare gli israeliani allo stesso modo delle alture del golani mi giunge anche notizia di un comandante irachiano anche questo mi pare di orientamento sciite che è già stato avvistato in libano e che dovrebbe portare tra 3.000 e 7.000 combattenti per appoggiare a massa e combattere israeli quindi la situazione è incandescente in un primo momento israeli ha accusato l'iran l'irai che è stato come dire lo stato più chiaro più nitido nel suo dichiararsi a fianco del popolo palestinese e di hamas ebbene poi dopo un iniziale infervoramento poi hanno fatto retromarcia in quanto la conclusione sarebbe stata la dichiarazione di guerra contro contro l'iran che non dimentichiamo la 85 milioni di cittadini ed è un esercito piuttosto ben addestrato hanno avuto anche dei progressi in campo scientifico non dimentichiamo che i famosi droni che sono stati usati anche da hamas e che sono usati anche da hezbollah che ne ha già inviati uno sciame verso il sud di israele sono prodotti in iran e sono gli stessi che vengono usati dai russi si chiamano quelli più pericolosi diciamo lanset sono di colore bianco chiamati anche rashid perché sono come dei martiri kamikaze che si gettano sui carri armati sui radar e sui sulle sulle trincee ucraine determinando devastazioni e morti quindi da questo punto di vista è vero che israeli ha una superiorità militare alla superiorità militare tipica di una potenza nucleare quindi quello che si sta combattendo a gaza anche se sta dando una prova sicuramente di capacità militare il gruppo di hamas è ancora una guerra asimmetrica non dimentichiamo e si sta concentrando soprattutto sulla popolazione civile in quanto sono ben nascosti i militanti di hamas è l'obiettivo spero di sbagliarmi ma non credo perché l'aveva già dichiarato apertamente netanyahu è quello di radere al suolo gaza tanto è vero che adesso stanno iniziando le operazioni di terra quindi con i carri armati mercava quindi si tratta di occuparla militarmente come hanno sempre fatto stanno creando d'accordo con l'egitto un corridoio umanitario per far uscire attraverso il valico di rafa migliaia e migliaia di gazawi in modo che se ne vadano nel sinai un progetto che già netanyahu aveva disegnato con l'ex presidente egiziano mubarak quando dice ma se io ve li mando tutti nel sinai e l'altro detto no quello non lo permetteremo mai né io né chi verrà dopo di me quindi il progetto di israel ancora una volta un progetto criminale genocidario da pulizia etnica e lo sta dimostrando quindi tutto l'apparato informativo serve per agevolare questo progetto non lo so come finirà mentre tutto questo questa messa in campo questa panoplia dell'informazione e delle armi è stata messa in campo contro la russia ma non ha funzionato perché la russia e non è la palestina questa è la realtà e quindi la russia ormai a capovolto in modo speculare tutto il progetto della nato perché il progetto in realtà l'aggressione contro l'ucraina non è contro la russia non è dell'ucraina ma è della nato cioè 31 paesi più l'unione europea questa la realtà contro un paese solo quindi il progetto chiaramente è terribile perché potrebbe portare veramente a uno scontro nel medio oriente la tipica terza guerra mondiale il fatto che la giordania poi concluso abbia dichiarato la propria disponibilità a mettere il proprio paese a disposizione degli stati uniti questa la dice lunga l'altro ieri c'è stata un'enorme manifestazione ad amman ma qui c'è una cosa che voglio ricordare ai nostri ascoltatori perché re abidalà secondo fa quel sottolineata nel mio libro il terrorismo impunito e che parecchi anni fa per stare buono gli americani gli hanno promesso un assegno mensile di alcuni milioni di dollari e re abidalà secondo per poter pagare le spese della sua corte e del suo personale se ne sta buono e spalleggia israele un vero e proprio rinnegato e netaniao oggi chi ha sta incontrando in queste ore il ministro degli esteri americano anthony blinken ha affermato schiacceremo a massa come l'isis e paolo c'è il rischio veramente come diceva diego siragusa di una di un escalation di fare esplodere l'intero medio oriente perché questa è una è già una guerra di interesse mondiale che si sta combattendo a fasi cose come si combatteva si combatte a fasi la guerra la guerra dei trent'anni c'è una guerra di interesse mondiale che si combatte a fa prima fase russo ucraina seconda fase adesso israelo palestinese e medio orientale più in generale se vi sarà di onore in generale non voglia, ma potrebbe esserci un allargamento e terza fase probabilmente quella cinese a Taiwan, per cui l'obiettivo degli Stati Uniti è proprio quello, cercare di eliminare tutti i loro potenziali concorrenti sulla scena internazionale, Russia, Iran, Cina e come fare per eliminarli, per tentare di eliminarli? Innescare focolai di guerra ai confini di questi paesi andando a destabilizzare i confini della Russia, i confini dell'Iran, sobillando le forze alleate degli Stati Uniti nelle rispettive regioni e poi anche cercare di sobillare i confini cinesi con una provocazione semmai a Taiwan, per cui quello è quello che Biden ha sempre detto di voler fare, cioè Biden ha sempre detto, e i suoi, io per Biden intendo la cerchia che sta attorno a questo deep state liberale globalista, cosa hanno sempre detto questo? Che vogliono arrivare alla resa dei conti con ogni nemico presunto tale degli Stati Uniti, per non avere più nessun concorrente sulla scena internazionale. E guardate, sono già riusciti con una mossa così, diciamo, un colpo di palazzo a destituire il governo ucraino nel 2013, poi hanno cominciato questa crisi a ridosso dei confini della Russia, adesso hanno permesso alla Zerba e Gianna di riprendersi, anzi di conquistare con la forza, ma lì non c'è un aggredito, un aggressore, lì va bene, il Nagorno-Karabakh, che è un enclave armena in territorio a zero, però lì va bene, quello si può fare, perché la Zerba è alleato dell'Occidente, sostanza, per cui lì non c'è un aggredito, un aggressore, c'è in altri scenari, quelli dove invece sono gli alleati dell'Occidente che vengono messi a dura prova. E poi cercheranno anche di risolvere la cosiddetta contraddizione palestinese, ma come? Eliminando le palestine, semplicemente, loro è quello che vogliono, non importa che prezzo dovranno pagare o quante vite umane saranno sacrificate su ambo i fronti, ma quello che vogliono questi neocon, non è l'assoluzione due stati, due popoli, ma queste sono cavolate per la propaganda a uso e consumo dell'opinione pubblica per rassicurarla, per dirò, ma come siamo buoni, vogliamo addirittura dare uno stato a questi pezzenti, sono pezzenti, ma gli diamo uno stato, figuriamoci, ma guardate che vengono veramente definiti così, nazisti, pezzenti, terroristi, palestinesi sono definiti in questo modo, e perché sono definiti in questo modo? Perché stanno lì, perché hanno a che fare con Israele, che è una potenza il cui capitale, il cui capitale internazionale controlla molto in termini mediatici, economici, militari, finanziari, culturali, per cui i palestinesi hanno avuto, tra virgolette, la disgrazia di trovarsi lì, con quel nemico lì, ed è chiaro che vengono visti in maniera speculare rispetto al loro nemico, il loro nemico è il santo, loro sono i diavoli, i nazisti, i pezzenti, gli animali umani, quelli che se anche elimini non si risente nessuno, anzi fai un'opera di carità e di bene perché hai eliminato dei terroristi, della gente che decapita i bambini, eccetera, eccetera. Però al di là della propaganda, gli diamo uno stato che poi non gliel'hanno dato e non gliel'hanno mai, tanto meno ora, adesso la questione è chiusa per sempre, loro cercheranno di eliminare la Palestina, di radderla al suolo, di trasferire le popolazioni palestinesi scomode di troppo in quell'area, così come già i piani dell'estrema destra israeliana vantavano da tempo, i piani di trasferimento delle popolazioni palestinesi erano già nel programma politico dei partiti di estrema destra israeliana, tra l'altro adesso sono pure al governo, da decine e decine di anni adesso cosa faranno? Cercheranno di attuarli, sarà dura, sarà molto dura perché non tutti si lasciano trasferire, tra virgolette, senza batter ciglio, però è lì che secondo me vogliono arrivare, a eliminare completamente la questione palestinese e fare di tutta la Palestina uno Stato interamente israeliano. Israeliano. Dunque abbiamo visto che gli Stati Uniti aprono vari fronti ed è quello che vogliono, ma l'Europa, l'Unione Europea, l'Europa saranno dopo il fronte ucraino, sono in grado di reggere anche le conseguenze di questo nuovo fronte di guerra? Ci fermiamo per qualche secondo e poi riprendiamo con l'intervista. Pura, ristrutturata, informata e viva. Chigiani Life è un'azienda italiana che ha ideato l'unico depuratore in grado di restituire all'acqua la sua vera natura. Leggera, con un ottimo sapore e scorre direttamente dal rubinetto di casa. Scegliere il depuratore Chigiani Life vuol dire scegliere un alleato fondamentale, perché l'acqua è il bene più prezioso. Scopri tutte le testimonianze sul gruppo Telegram e sul canale YouTube di Chigiani Life. Diego Siragusa, l'Europa, l'Unione Europea è in grado di gestire economicamente, a livello di impatto anche economico, oltre che militare, questo secondo fronte di guerra con questa possibile escalation, secondo lei. Prima di rispondere alla domanda voglio mostrare, se ci riesco, questo mi è appena arrivato, la giornalista, riuscite a vedere? No, qui non si riesce a vedere, lo lega pure lei. La giornalista israeliana che ha dato l'informazione falsa sui 40 bambini, eccola qui, dichiara sono stata malinformata dall'esercito locale. Eccola qui. Bene, rispondo alla domanda. L'Unione Europea, tanto per cominciare, ha congelato... Sentiremo cosa risponderanno i giornalisti, cosa scriveranno i giornalisti, i giornali che ieri a titoli cubitali hanno condannato questo efferato, inesistente massacro di bambini, ovviamente faranno finta di niente. Faranno un gioco di parole e relegheranno in quarta, quinta pagina la notizia, in modo che l'effetto permanga, insomma. Ecco, per quanto riguarda l'Unione Europea, finora non ha svolto nessuna funzione di moderazione o di svolta per quanto riguarda il Medio Oriente e la questione israelo-palestinese. Oggi si parla anche da parte, devo dire, della Cina e della Russia della soluzione a due stati, però nulla finora è stato fatto per far avanzare a livello negoziare qual è sta prospettiva. Sono passati decine di anni, decine di anni. Ebbene, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto l'occupazione continua di nuove terre da parte di Israele, al punto che ormai è diventato quasi impossibile creare un nuovo Stato. L'ex ambasciatore palestinese, il mio amico Nemer Ahmad, palestinese in Italia, mi diceva, dice ormai, la Cis Giordania è diventato un formaggio svizzero, pieno di buchi, perché ci sono oltre 600 mila coloni che si sono impossessati di una terra che non appartiene a loro, hanno scacciato i palestinesi, bruciano ogni giorno i loro alberi di ulivi, quindi tolgono ai contadini palestinesi il mezzo di sostentamento, li uccidono, li investono addirittura con le proprie automobili, come è successo addirittura poche ore fa. Durante un funerale i coloni hanno spazzato sul funerale e hanno ucciso delle persone. Questa notizia arriva a noi militanti dalla causa palestinese, ma non arriva al mainstream, alla grande informazione. Come primo atto veramente sadico, cosa ha fatto l'Unione Europea? Ha interrotto il finanziamento a scopo di beneficenza naturalmente nei confronti dei palestinesi, che a Gaza, voglio ricordarlo, al 70% sono disoccupati. E se qualcuno non muore proprio di fame, ci pensa l'ONU con i sacchi di riso a colmare questa situazione di mancanza di generi alimentari di prima necessità. Questa è la realtà. Quindi qual è il rischio da parte dell'Unione Europea? Da parte dell'Unione Europea è che questo accumulo di odio per quello che sta accadendo, per il fatto che l'Unione Europea ancora una volta, non solo con l'Ucraina, ma anche con il Medio Oriente e con la Palestina, si schiera da parte dell'oppressore. Questo non può che fornire un ulteriore elemento a quei terroristi che alcuni anni fa, probabilmente pensando di fare un bel gesto e di rivendicare, trasferendo la sofferenza e il dolore sull'Occidente, che sono gli stessi che hanno fatto quell'attentato a Nizza. Ve lo ricordate? Quando un camion intero entrò nella promenade de Saint-Glaire, uccise decine e decine di persone, il segnale sembrava questo. Adesso vi diamo un esempio di sofferenza come voi lo date a noi. Questo è il rischio di innescare veramente una spirale di odio anti-occidentale. È inutile che oggi i giornalisti e i politici europei e occidentali si scagliano contro l'Islam. L'Islam non è quello dell'Isis, tenendo conto che l'Isis esiste perché è stato creato dagli Stati Uniti per rovesciare Assad e creare le condizioni che piacciono a Israele di non avere uno Stato vicino che funziona superarmato e potente come la Siria. L'Isis è stato creato da parte degli Stati Uniti e dell'FBI e della CIA per sovvertire una delle poche ultime grandi repubbliche arabe come quella di Siria. E c'è una dichiarazione chiara, precisa di Hillary Clinton su questo. Quindi il rischio che tutto questo si trasformi in una collera, perché quello che sta accadendo veramente sconvolge gli animi. A maggior ragione, da parte degli arabi, noi avremo una reazione che potrebbe anche innescare reazioni spropositate da parte di piccoli gruppi, sempre più radicali e sempre più soprattutto motivati da un punto di vista religioso. Chiarissimo, chiarissimo. Era la domanda che infatti è il punto a cui volevo arrivare e Diego Siracusa l'ha già risposto articolando il ragionamento. La domanda, Paolo la rivolgo a te, l'Europa e l'Italia sono a rischio attentati da adesso? Ma anche se lo fossero alle nostre classi dirigenti cosa importa? Sì, ha detto quello che a loro non importa, ma voglio dire, siccome l'Europa è fatta anche di cittadini, voglio dire, a prescindere dalle classi dirigenti, potrebbe verificarsi qualche attentato in qualche città interaginale? Anche i cittadini importerebbe poco, perché i cittadini fanno molto poco nel loro complesso per cercare di invertire la rotta o per cercare di mobilitarsi perché l'Italia non sia un suddito degli Stati Uniti a livello internazionale. C'è stata la raccolta di firme per il referendum sulle armi, per interrompere la fornitura delle armi all'Ucraina, bastava firmare, ma non ha firmato un numero sufficiente di persone. Vuoi perché i media non informassero abbastanza? Vuoi perché i comitati erano divisi e allora davano un segnale di divisione? Perché anche il Movimento 5 Stelle, ne ho parlato con Travaglio, non l'ha ammesso perché ha detto che il Movimento 5 Stelle è in fase di riorganizzazione, ma quando gli ho chiesto perché il Movimento 5 Stelle non ha appoggiato questo referendum, visto che in Parlamento è contro l'invio delle armi. Quindi bastava solo che lo promuovesse il Movimento 5 Stelle la raccolta di firme e il quorum di 500.000 firme sarebbe stato raggiunto, direi, piuttosto velocemente anche, no? Ma poi bastava andare a firmare e invece le persone, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, non sono andate. E il fatto che l'Italia sia a rischio, non lo so, perché dal 2001, dopo il 2001, l'Italia doveva essere ogni giorno, si diceva, se è andato al supermercato, 11 settembre, se è andato al supermercato, qualcuno farà, qualche islamico ovviamente, per cui si riduce quello, no? Islamici, russi, Novax, quelli quali ogni volta c'è un nemico prediletto per appunto, no? Costruire un conflitto, serve sempre prima costruire un nemico, individuarlo e metterlo così, imprimergli uno stigma sociale. Faranno saltare i supermercati, faranno saltare gli aerei e tutto quanto. Non lo so, io non so se l'Italia è a rischio, so che l'Italia è un suddito, io non mi avventuro a leggere il futuro, però leggo il presente, il presente di un paese completamente sdraiato sulle indicazioni della Nato e degli Stati Uniti, per cui l'Italia non conta nulla, ecco, io non penso che un paese che conti poco sia anche sostanzialmente poco a rischio. Poco a rischio, è una lettura. Certo, è un paese che non conta. Non lo so. Certo, è una lettura molto interessante questa, contiamo così poco che non siamo nemmeno a rischio. Ci avviamo alla conclusione di questa nostra intervista, io nel ringraziare per il prezioso contributo Diego Siragusa, ricordo che Diego ha tradotto qualche anno fa il libro «Giornalisti comprati» di Udo Ulf Cotte, in cui l'autore rivelava di essere stato per 17 anni al soldo della CIA e quindi che gli usa e quindi degli usa e di come la CIA stesse ad altre agenzie i servizi segreti paghino i giornalisti per diciamo propagandare le azioni della Nato. Quindi se avete il libro, questo prezioso, questo famoso libro di Udo Ulf Cotte, ecco, Diego Siragusa è il traduttore di questo libro. Grazie per il prezioso contributo, a presto Diego Siragusa. Grazie a voi. Grazie, grazie Paolo Borgognone e questa allora è la nostra sessantesima intervista. Abbiamo concluso la sessantesima intervista. Carlo, ne approfitto per dire che in questione di qualche settimana uscirà un mio libro che si intitola «Dialogo impossibile con un rabbino, Israele e la tragedia dell'arroganza», che è perfettamente calato sulla situazione attuale. Ho appena aggiunto un capitolo su richiesta dell'editore e penso che entro la fine di ottobre dovrebbe uscire. Ecco, sarà un vero piacere presentarlo qui al Vaso di Pandora anche perché è un tema di strettissima attualità e quindi sarà l'occasione per rimanere sul tema. Grazie ancora a Diego Siragusa, grazie a Paolo Borgognone e grazie a tutti voi amici ascoltatori. Grazie a tutti.